diciamo che ci sono due possibilità sicché è semplice su facebook basta scrivere pistoiese video story o su youtube basta cercare il canale si chiama pippo zippo dagli anni 86 87 ho intrapreso questa raccolta prevalentemente di video è un lavorone perché è tutta catalogata appunto per campionati per anni le partite sono centinaia e lavoro insomma e somma e tante non è ancora finito perché sono sempre la ricerca di nuovi di nuove partite sempre datate per permettere in questo archivio digitale che sto questo creando che ormai annovera campionati dall 87 a oggi è indubbiamente sempre stata la mia squadra del cuore iniziai a avvicinarmi a questa questa squadra che ero come succede a tanti ero ragazzino e grazie a mio padre che mi portava allo stadio allora in curva sud quando si stava in piedi ancora lì a quella ringhiera dietro la porta grazie a lui ho cominciato a innamorarmi di questa squadra e anche se purtroppo un rammarico perché crescendo diventando adolescente ho avuto una breve parentesi di interruzione e ho perso qualche campionato poi mi sono riavvicinato quando cominciava ad avere sui 20 21 anni mi sembra gli anni della rinascita con frusta lupi allenatore lomi e da lì poi non ho perso più una partita sono più di 30 anni di campionati se moltiplichiamo almeno una ventina di partite per campionato o almeno 600 partite della pistoiese grazie anche a degli amici che tramite i social mi hanno contattato e mi hanno messo a disposizione le loro vecchie videocassette per trasferirle in questo archivio che comunque volerono le re a disposizione di a disposizione di tutti con l'avvento appunto dei social o oltre che video ea parte i giornalini che se non erro ne manca giusto uno degli anni 90 ma credo non sia stato pubblicato diciamo che ho tutta la raccolta dei giornali della nazione del tirreno in cartaceo proprio dal 85 1985 a oggi e tutti i giornalini della pista quasi quasi tutti fin quando sono usciti primi anni 90 fino fino a quando sono usciti tutti cartaceo come cartaceo e tutti gli articoli di giornale del lunedì della partita della pistoiese che fosse la nazione che fosse preso dal tirreno insomma a seconda del giornale che acquistavo e quindi c'è una raccolta sia multimediale che parte dall'87 e con l'ultimo campionato di c2 allenatori lippi poi ci fu il fallimento e fino agli anni nostri e una raccolta cartacea dei giornali articoli di giornale della partita del lunedì dal 85 a oggi e tutti i giornalini di autosquerci o chi la stampate le raccolte anche fino a quando sono uscite negli ultimi anni quando ho potuto con l'avvento anche dei cellulari che puoi poter riprendere le immagini fece un bel video alla partita pistoiese prato nel 2014 con lucarelli quello mi piace tanto perché oltre che riprendere le immagini sono stato abbastanza concentrato sul tifo della curva è bello vedere questi colori arancioni che volteggiano nel cielo le riprese classiche magari si concentrano più sull'azione di gioco invece che su che sul tifo se non magari sporadicamente il famoso spareggio di bologna e la traversa per esempio di bottazzi quante volte me la sono riguardata mentre lo sto dicendo mi passa un brivido sulla pelle perché fu fu il segno insomma liberatorio quel momento poi ci fu l'urlo liberatorio anche del compianto Giancarlo Innocenti che nessuno insomma può dimenticare l'amore che ha avuto per questa squadra o addirittura tanti giovedì sport condotti da Giancarlo Innocenti li tengo come reliquie voglio rammentare una persona che ultimamente mi ha dato tante videocassette un altro grande appassionato si chiama Riccardo Caramelli che mi ha dato oltre 250 cassette della Pistoiese dispiace non avere quelle precedenti e anche se si comincerebbe avere dei problemi con le immagini perché le cassette si deteriorano però sarebbe bello ritrovare qualche appassionato che negli anni 84 85 così magari era a possesso dei primi videoregistratori e magari ha in casa da qualche parte qualche cassetta se volesse darmele per passare niente lo faccio con il cuore lo faccio per passione e ora grazie anche ai social posso mettere a disposizione dei tifosi non solo quelli con i capelli bianchi come me ma anche di quelli più giovani affinché possano vedere le gesta di questa squadra e le belle vittorie e i bei campionati vinti del passato grazie a tutti